buongiorno oggi una ricetta velocissima e anche economica allora olio extravergine d'oliva e ho messo e ho tagliato una zucchina taglia da pezzetti adesso la sto facendo friggere per bene poi ho preso 300 grammi di gamberetti gli ho sciacquati ho tolto il filo dell'intestino e questi devono cuocere pochissimo un paio di minuti devo aspettare che le zucchine siano ben rosolate poi metterò un pomodoro e tanto prezzemolo sale e pepe con questo subetto ci condirò le farfalle le farfalle integrali scusate la voce ma abbiamo tutti quanti l'influenza avete visto come stanno soffriggendo bene le zucchine a questo punto vado a mettere i gamberetti 3 minuti di cottura non di più altrimenti i gamberetti diventano a metà cottura della pasta io ho buttato le farfalle vedete farfalle integrali la metà cottura scolerò e metterò direttamente a mantecare nel sughetto allora ho scolato la pasta a metà cottura e adesso la verso nel sughetto e metterò anche con ho lasciato un po d'acqua mi aiuterò anche con a cuocere con un po di acqua di cottura